Salve a tutti ai Ucci Artisti, oggi finalmente unboxeremo il mio primo gioco fisico per il PS4 trattasi di Spider-Man, finalmente ce l'ho anche io Eccolo qua Sarà bellissimo, beco un pochino, già lo conosco, io ce l'ho giocato qui da mio tempo ce l'ha Quindi non vediamoci in piacere e partiamo con la prossima Ok, vai Eccoci qui Eccoci qua, finalmente lo apriamo Lo unboxeremo Allora Un po' adesso non ci vuole sentire No perchè mi preoccupo di non rovinare la copertina Sai che ci tengo, queste cose sono fissate maniacali Tutto l'assumore che ci vuole essere Ok Ok Esclusiva PlayStation Mitico Vediamo l'interno Questa è la cosa bella lì I cd di Woody originali Che sono fatti bene dentro e fuori Questa è la pubblicità, capisci? Indicazione eccetera, ok Ok Quello così è, pura me il discreto è così Anche se l'edizione speciale è così Non ci resta che giocare Bellissimo, sono contento Chissà quale sarà il prossimo, non lo so E partiamo con l'installazione Ok Oddio Ok So No 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.